Buongiorno a tutti, sono Marta Romagna, già prima ballerina del Teatro alla Scala e ora docente del corso di perfezionamento all'Accademia. Il corso di perfezionamento dell'Accademia della Scala ha una sua unicità. Ogni allievo è veramente libero di apprendere senza essere sotto esame come fosse un allievo che percorre i suoi otto anni nell'Accademia. Diciamo che si tratta agli allievi un po' come dei professionisti già e quindi con quella libertà di ovviamente impegnarsi e venire tutti i giorni, questo sì, ma non sotto esame con magari risultati con pagelle, con esami quotidiani e quindi questo può essere anche qualcosa in più per venire rilassati e soddisfatti.